Non ho assolutamente il nome, questo però rientra abbastanza anche qua. Io, a quello che riguarda le storie mie, ripeto, non ho questo tipo di timore. Sono d'accordo con quello che dice Jeff, cioè non provocare l'emulazione. Infatti chiudo questo ragionamento semplicemente, io, relazionandomi a qualcosa che mi ha detto il polizotto americano, cioè il timore della polizia, delle FBI, di tutti gli organi ingerenti, non è quello che in qualche modo cerca di fare il furto, cioè ci sono 100 milioni di dollari in un posto che cerca di rubarli, o la droga che arriva in me. Il problema, il grosso, sono quelli che impazziscono e prendono un fucile e vanno su per una casa e andranno fuori venti. E la cosa peggiore dopo questo è l'emulazione. Per restare a casa nostra, qualche imbecile che buttano i sassi da una vacca via e subito viene imitato, perché, come si diceva, come si dice, vi danno, come sapete, la mamma degli stupidi è sempre in città.